Il nuovo DDL concorrenza sembra non convincere alcune categorie professionali, soprattutto i notai. I motivi sono legati a una serie di considerazioni che sono state fatte in questi mesi in varie sedi, soprattutto nelle sedi competenti parlamentari, ma anche in convegni. Oggi è una delle occasioni, soprattutto perché apparentemente contrappone due categorie professionali, ma in realtà sono categorie professionali, gli avvocati e i notai che hanno delle loro peculiarità, hanno un loro percorso formativo. In realtà il DDL nell'estendere delle competenze tende a favorire delle aggregazioni economiche che hanno maggiori possibilità, maggiori risorse, quindi per incidere su quella che è la contrattazione immobiliare, senza avere però quelle che sono le specifiche competenze che nel caso dei notai sono legate al ruolo di terzi età, di imparzialità, di affidabilità dei registri, di conoscenza attraverso un percorso formativo di quelle che sono le legislazioni speciali. Quindi da questo punto di vista non è concorrenza, anzi probabilmente sono monopoli. Grazie.